Allora, questo è un weekend come dicevo per la prossima stagione, a scelta, noi ce n'abbiamo 4, numero 35, 35 chi ce l'ha? Filippa, neanche lo sai, allora sorteggiamo, andiamo avanti, andiamo avanti Brava Paola, spieghiamoci Brava, bravo Paola, lo puoi anche cambiare con un weekend con noi due Rottala, rottala che quanto Guarda che stai, sbottona, sbottona Paola Forza di Bianca, donna, mi hai dettito E lui sta forza di chiede, voglio vincere, voglio vincere E lui sta fai a giudicare E lui sta fai a giudicazione